Dunque, credo da noi, intanto questo è uno dei quattro di, almeno a me, che fanno le mani negli anni di un'emozione, e francamente è un'emozione che mi sarei spaventato volentieri, perché è dolore, è sofferenza. Vabbè, detto argento questo, a me pare che una cosa si sfida in Italia. E' il modo, in particolare gli americani, io ho un piccolo genetico, non lo faccio per ragioni di tempo, delle stupitaggini commesse dagli americani, che quando un esergente maggiore dell'esercito italiano, è verità, è verità. Il bombardamento di Cori, il bombardamento di Monte Cassino, il bombardamento a casa dei decennitori, proprio per raccontare non erano davvero, no. Il terribile bombardamento di Trezza, proprio come lo spiegate, le bombardomiche in Giappone, come le spiegate, per abbandonare tutti i massaggi, come le spiegate. Nello stesso modo in cui si spiega, non intervento la prova muscolare, tutto, e questa va a far cambiare al mondo da quale parte sta la vita. Tutto qua, non ci sia qualcosa da dire, se non continuare a muoversi e a emozionarci. Grazie.